Siamo con il direttore dell'Agenzia del Lavoro della Regione Veneto. Voi rappresentate i centri per l'impiego e parliamo di interinali. Qual è il problema vero? Il problema degli interinali è il salario che prendono a fine mese, le 20 euro, le 30 euro di aumento che possono avere alcunio fiscale, oppure il fatto di essere invisibili. Cosa facciamo per questi ragazzi quando vanno in banca che vogliono chiedere un mutuo, quando vanno sulle agenzie che vogliono affittare un appartamento e se non sei fisso, un contratto a tempo indeterminato, tu non esisti, diventi invisibile. Lei ha fatto un grande ragionamento sul suo intervento. Mi saprete dare questa risposta? Beh, è semplice. Guardando i dati del mercato del lavoro su circa il 100% degli occupati dipendenti nella nostra regione, solo il 15% sono lavoratori a tempo determinato. Quindi, vedendo la fotografia completa di tutti gli occupati nella nostra regione, al momento il 15% è a tempo determinato. Se guardiamo i dati annualmente dei contratti di lavoro, vediamo che il dato dei contratti a tempo determinato che si inseriscono annualmente arriva al 60%. Il punto però è di avere un contratto di lavoro, perché in questo momento un contratto di lavoro a tempo determinato direttamente con l'impresa o attraverso un'agenzia per il cosiddetto lavoro interinale se è supportato da un contratto vero, questo garantisce le garanzie e le tutele. Se invece non ha queste caratteristiche è un problema. Questo significa che in questo momento tutti i contratti a tempo determinato, la grossa parte, il 60-70%, è fatto di contratti che durano più di sei mesi, quindi sono contratti che tendono a crescere nel tempo. I contratti a tempo determinato che superano l'anno sono di percentuali molto molto basse e quindi il tempo determinato nella nostra regione è dato principalmente da contratti annuali. Poi il dato di questi ultimi mesi è che sono cresciuti tantissimo i contratti a tempo indeterminato, per cui molti lavoratori sono passati dal contratto a tempo determinato al contratto a tempo indeterminato, nello scorso anno 30.000 complessivamente. Questo per dire che la stabilità del lavoro, che è poi caratteristica della fotografia generale, l'85% sono a tempo indeterminato, è una realtà della nostra regione. Esatto, però evidentemente a questi lavoratori a tempo determinato dovrà il governo pensare come renderli visibili. Beh, ma quando c'è un contratto di lavoro ufficiale, questo è garanzia di visibilità, soprattutto perché a fianco al contratto di lavoro ci sono anche le tutele, per esempio attraverso gli enti bilaterali c'è la possibilità di avere un aiuto in caso di disoccupazione oppure un sostegno su specifiche istituti che sono a vantaggio di chi ha un contratto a tempo determinato. Ricordo per esempio in questo contesto che nella zona del litorale delle spiagge si è stabilito un contratto integrativo col sindacato e con gli albergatori che prevede per i lavoratori a tempo determinato un bonus per quelli che rimangono nel tempo. Di conseguenza si vede che le cose stanno cambiando anche dal punto di vista della capacità di tenere vicini a sé i lavoratori a tempo determinato.